ma buongiorno giganauti benvenuti bentornati su questo canale è un video flash come le due offerte quella di iliad e di copvoce torna nuovamente l'offerta quella da 200 giga di copvoce chiamata evo 200 ha una scadenza si rimangono 27 giorni e due ore ed è questa qua cambia cambia qualcosa qui non regala più niente nessuno evo 200 minuti limitati 1000 sms verso tutti 7 euro e 90 attiva la promo ad un prezzo speciale entro il 6 9 se ci cliccate sopra però potete notare che c'è un costo di attivazione di 10 euro quindi compreso poi bisogna aggiungere il 7 euro e 90 che sarebbe la mensilità vi ricordo che è per sempre come quelle di iliad e potete richiedere anche la e sim lo trovate da qui sotto poi come avete visto ci sono altre offerte hanno lasciato ancora evo 180 che naturalmente in questo momento non avrebbe senso farla perché costerebbe 9 euro e 90 poi c'è la evo 50 50 giga 7 euro e 90 la evo essenzial che sono 3 giga che solitamente qui ci sono senza i giga a 5 euro e 90 invece che sarebbero solo minuti chiamate sms limitati qui invece hanno messo 3 giga 4 euro 90 quindi queste qui diciamo 1 e 2 offerte da 50 giga 7 euro e 90 mi sembra un po altuccia però per il momento insomma io direi che questa da 7 euro e 90 con 200 giga anche se adesso c'è il costo di attivazione copertura team vi ricordo è una strassatura di 100 megabit al secondo in download anche se ho notato insomma quando ho fatto gli spi test andava anche oltre 120 130 megabit li raggiungeva a volte anche 140 però dipende anche abbiamo detto c'è una strassatura di 100 però sembrerebbe che vada oltre e l'altra novità che appena uscita è iliad con la flash 180 si chiama anche qui c'è una data di scadenza però andiamo insomma tempo se l'avete perché dura più di avete un mese di tempo come potete vedere scade tra 35 giorni un'ora vabbè 45 secondi 8 7 6 flash 180 180 giga minuti sms illimitati 9 euro e 99 al mese il 5g è incluso e l'attivazione di 9 euro e 99 vi ricordo logicamente che il 5g è incluso ma dovete avere un dispositivo compatibile anche la zona coperta dal 5g bene direi che tutto l'ultima chicca diciamo una piccola delusione da optima e mobile copertura vodafone con strassatura anche questo qui è un operatore virtuale ecco ha deciso dal 3 agosto di togliere tantissimi giga quindi di dare solo un giga in con il roaming in europa questa è stata la sua scelta perché perché poi se qualcuno dovesse finire quei giga non si preoccupa non è che rimane senza no naturalmente hanno messo delle delle tariffe che sto le sto leggendo quindi per avere un giga in più al costo di 2 euro valido per 30 giorni oppure 2 giga con 4 euro oppure 5 giga 10 euro quindi se volete avere più giga bisogna pagare bello bellissimo la super offerta di optima mobile con 4 euro 95 con 100 giga però qualcuno mi ha già detto che magari le offerte vecchie sono state rimodulate adesso la novità che vengono tolte quindi la possibilità in roaming quindi all'estero di utilizzare solo un giga per il resto bisogna pagare insomma un po un po di delusione si me l'ha me l'ha data questa optima però ragazzi non si può pretendere più di tanto qualche cavillo ci deve essere sempre in queste offerte non è tutto oro quel che lucida va bene giga nauti io vi saluto grazie per se state qui fino alla fine del video anche se è stato brevissimo noi ci vediamo prossimamente mi raccomando domani adesso questo vi esce subito immediatamente che ore sono le 22 21 ve lo butto su subito domani mattina alle 9 c'è già un video con temo 18 gadgets guardatelo ciao ciao da ciao 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 ciao